Salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono Angela e voi siete sul mio canale Tutto dal Web. Oggi, 11 marzo, si è registrata una nuova puntata del trono over e classico di uomini e donne. Ebbene, vedete queste due sedie rosse? E sì, perché c'è stata una scelta, una scelta inaspettata. Di chi sto parlando? Grazie al piccolo delle news possiamo svelarvi alcune anticipazioni. La scelta in questione riguarda loro due, loro due, scusatemi, Claudio e Sabina. Hanno deciso di scegliersi e di continuare la loro storia d'amore al di fuori del programma di Maria De Filippi. Ma scopriamo cosa è successo nei dettagli. Durante il corso della puntata, Maria De Filippi chiede a Gianni chi vuole che continui a stare al centro dello studio per parlare. Lui è incuriosito proprio da Sabina e Claudio e vuole che al centro dello studio si siedano loro per capire come è andata avanti la loro conoscenza durante questa settimana. Claudio racconta che ben presto dovrà lasciare Roma, verso maggio e giugno, o giugno, perché comunque deve aprire un locale in un'altra zona e chiederà così a Sabina in settimana di accompagnarlo per vedere comunque questo nuovo locale. Claudio però prenderà la palla al bazzo e dirà a Sabina se non solo vuole accompagnarlo lunedì, ma tutti gli altri mesi che lo porteranno a stare lontano da Roma. Lei accetta e così Maria De Filippi gli dice se ritorneranno poi lunedì nel programma per raccontare come è andato questo sopralluogo. Ma lei gli dirà che non tornerà nel programma perché vuole viversi al 100% il suo Claudio al di fuori delle telecamere. Tutti quanti di studio, eccetto anche Gianni, sono rimasti molto sbaloriti a quella scelta perché Maria De Filippi tiene a precisare che non era assolutamente programmata. È stata una scelta distinta, commentano Sabina e Claudio, una cosa che si sono sentiti dire in quel momento. Nessuno sapeva che avrebbero lasciato il programma oggi, 11 marzo. Maria capisce che tra loro due c'è un vero sentimento, così chiede che canzone vogliono sentire e se vogliono anche i petali rossi. Ovviamente Sabina è molto emozionata perché non era preparata ma dice di volere la canzone a mano a mano. E così con le sedie rosse, una bella cascata di petali rossi, Sabina e Claudio lasciano il programma sulle note di a mano a mano abbracciati con la mascherina e si danno questi baci un po' a stampo. Gianni Sperti si dichiara molto emozionato e soprattutto dichiara di essere anche lui il primo a aver giudicato la coppia, ma contento se loro e se il programma ha portato un altro amore vero nello studio. Voi che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi questo ma nessun altro prossimo video. Buona serata da Angela, da Tutto dal Guab. Grazie. Grazie.